ah grazie per essere venuto subito come un vero cavaliere non fai attendere la tua principessa come vedi le ricerche di oggi devono averla stancata allora che mi dici siete riusciti a fare amicizia lo so lo so cerca di avere pazienza sai com'è si deprime ogni volta che vede quella spada sulle tue spalle dice di essere una principessina incapace ma non è certo colpa tua si è data da fare così tanto anche lei per risvegliare il potere del sigillo fin da bambina passa ogni giorno a pregare sai quante volte si è presa la febbre bagnandosi con l'acqua fredda della fonte eppure il suo potere è ancora subito è proprio per questo motivo che ha cominciato a studiare quelle reliquie vuole soltanto aiutarvi mi raccomando cerca di proteggerla è compito tuo inizia a fare freddo meglio svegliarla adesso urbosa ma che succede e tu che ci fai qui ah 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 Grazie a tutti.